Da oggi ho un favoloso alleato per le mie pulizie quotidiane, Spontex Microfibre Extra Brillanti. Grazie a Spontex, in collaborazione con Provalo Tu, sono stata scelta per testare questi panni microfibre che assorbono e puliscono le superfici in modo efficace. Grazie al loro speciale rivestimento sono super efficaci e non lasciano aloni. Questa nuova tecnologia li rende anche facili da risciacquare. Adesso quindi non ci resta che provare questi panni microfibra Spontex. Questa è la mia cucina, in realtà può sembrare perfettamente pulita ma continuandola ad usare comunque si possono creare delle imperfezioni come il calcare dovuto dall'acqua per quanto riguarda la fontana oppure delle impronte vicino alle porte della cucina. Queste microfibre possono essere usate solo con l'acqua per pulire efficacemente e ottenere risultati scintillanti. Non c'è bisogno di usare detergenti che possono inquinare torrenti e fiumi. Sono anche super resistenti e di lunga durata. Possono essere lavate in lavatrice non una volta ma ben fino a 500 volte. Così possiamo continuare a riutilizzarle più e più volte e quando non sono proprio più adatte al loro utilizzo possiamo comunque usarle per pulire le scarpe o i bidoni della spazzatura. Questi panni inoltre sono composti da migliaia di piccole fibre quindi il numero di punti di contatto con la superficie è notevolmente maggiore rispetto ai panni non in microfibra. Questo significa che ogni panno ha un potere pulente straordinario che rimuove il 99% dei batteri e virus anche solo con l'acqua. Incredibile i risultati che sono riuscita ad ottenere senza usare detergenti. Solo con i panni Spontex microfibre extra brillanti.